Buongiorno e buona domenica dal Tg del mattino di Telemolise, domenica 10 maggio in apertura del nostro spazio informativo, parliamo dell'attribuzione anche quest'anno a tre comuni molisani della Bandiera Blu, Manca Montenero di Bisaccia, sentiamo perché da Fabrizio Chionero. L'obiettivo principale del programma Bandiera Blu è quello di promuovere una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicatori che mettono alla base delle scelte politiche l'attenzione e la cura per l'ambiente. La qualità delle acque di balneazione è un criterio imperativo, solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura. Anche quest'anno la costa del Molise si distingue, saranno quattro le spiagge in tre comuni dove si potrà esporre l'ambito vessillo. Si tratta di termoli con il lungomare Sant'Antonio e lungomare Sud, Campomarino Lidu e Petacciato Marina, dati che saranno confermati solo martedì 12 maggio, quando in programma la cerimonia ufficiale nella sede della Regione Lazio a Roma. Per termoli si tratta della tredicesima Bandiera Blu. Nella lista non c'è la Marina di Montenero di Bisaccia, questo potrebbe dipendere da un parametro che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, partita solo di recente e non dalla qualità delle acque che restano limpide, tanto che anche le marine limitrofe di San Salvo e Vasto sono state certificate. Montenero punta dunque a conquistare il riconoscimento nel 2016. I criteri considerati dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale sono infatti numerosi che comprendono le spiagge, i servizi della depurazione, la qualità delle strutture ricettive, la gestione dei rifiuti, la pesca e le iniziative organizzate dai comuni per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. Un riconoscimento internazionale che rappresenta un biglietto alla visita per i turisti che ogni anno scelgono la costa del Molise o lo faranno per la prima volta scoprendo zone del litorale ancora incontaminate. Cambiamo argomento, l'astronauta Umberto Guidoni ha incontrato a Campobasso all'Università del Molise e gli studenti nell'ambito di un ciclo di incontri promosso dall'Istituto Superiore Pertini del capologo di regione, Tonino Danese. Lo spazio, i pianeti, i viaggi tra le stelle, argomenti che da sempre stimolano l'immaginazione dell'uomo, la letteratura e il cinema. Umberto Guidoni, astronauta italiano, è stato il primo europeo a salire sulla Stazione Spaziale Internazionale, può vantare due missioni NASA, è uno di quelli che ha avuto il privilegio di guardare la terra dall'alto, di vederla piccola come un pallone, di emozionarsi e di sentirla tutta intera come casa lì dall'alto. La casa di tutti gli uomini, disse in una precedente visita in Molise, indipendentemente dalla provenienza o dal colore della pelle. La su è uguale per tutti dalla su, non si può che considerarla casa e per questo amarla ed essere spinti a proteggerla, affermò. È tornato a Campobasso, all'università, per parlare con gli studenti, raccontare la sua esperienza, confrontarsi. È intervenuto in uno degli appuntamenti organizzati dall'ITAS Pertini del Capoluogo. Gli incontri al Pertini e l'Ateneo ha messo a disposizione l'Aula Magna. Agli studenti Guidoni ha dato un consiglio. Giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, ma soprattutto che hanno curiosità e voglia di conoscere quello che c'è oltre il limite conosciuto, devono anche lavorare molto e studiare, in particolare imparare le lingue, perché questa è un'altra caratteristica, l'internazionalità delle attività spaziali. Ma la curiosità di tutti è sempre una. Cosa si prova a stare nello spazio e chi meglio di Guidoni per la risposta? Quello che si prova è una grande sensazione di leggerezza. Pensate che si è senza peso e lo spazio, diciamo, l'ambiente intorno a noi cambia completamente. Soffitto, pavimento sono equivalenti, le dimensioni di movimento è tale per cui non l'hai mai provato prima, diciamo questa sensazione di libertà e di movimento. Quindi quando si torna, si torna come se uno avesse una dimensione in più, diciamo, grazie a questa esperienza nello spazio. L'articolo d'apertura di oggi è a firma di Marta Martino. Susanna Camusso a Campobasso, ieri per due giorni di lavori del sindacato, ribadita la decisione di una mobilitazione generale in autunno. Questo è il risultato della due giorni di incontro della CGL Molise. Le altre notizie, la cronaca, autotrasportatore arrestato dai carabinieri, sul suo tiro una pistola da guerra e munizioni. Agnone invasa dai sassisti della capitale, l'ospedale anche nostro, guai a chi lo tocca. Bandiera blu, l'acqua cristallina, i servizi della costa del Molise premiati ancora una volta, abbiamo sentito nel servizio e poi dai Serni a Cordoglio in città per la scomparsa di Vera Melogli. Carresi, il Tribunale dell'esame respinge il ricorso, aspettiamo le motivazioni. Comunicazione Futuro Digitale, Freccero e Dekeshoff a Ferrazzano, lo sport molisano in lutto per la morte di Vincenzo Cosco. Poi si parla del caso Saifedin Schaffara, autopsia a Termoli per fare chiarezza sulle cause della morte. Le altre notizie a scorrere, poi nella sezione editoriali idee ed opinioni vi segnaliamo questo intervento, la ragione degli animali a firma di Annunziata D'Alessio che riguarda il tema delle carresi e poi ancora quei briganti molisani, l'intervento invece a firma di Claudio De Luca. Poi nelle notizie dalla Regione vediamo altri argomenti e a destra le notizie dall'Italia. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani molisani in edicola, le principali notizie sulla prima pagina. L'apertura di primo piano Molise è dedicata proprio all'intervento di Susanna Camusso a Campobasso. Crisi Camusso detta l'agenda alla politica regionale serve discontinuità. Detto la leader della CGL a Campobasso fa il punto a un anno dal discorso in piazza Prefettura. Il malinteso col governatore che chiama il sindacato triplice, il segretario sbotta, quel termine lo usa solo chi ci disprezza. E poi sotto la testata la notizia della morte purtroppo di Vincenzo Cosco. Lutto nel mondo dello sport, Vincenzo Cosco ha perso la sua battaglia con la vita. L'allenatore della Torres, la sua ultima squadra aveva 51 anni, si è spento all'ospice di Larino dopo aver combattuto fino all'ultimo un male che aveva già sconfitto in passato. La ricorrenza, l'auguro di Monsignor Bregantini a tutte le mamme. Oggi la festa della mamma, auguri ovviamente anche da Telemulise e poi da Agnone, Caracciolo. I sindaci liticano mentre i tassisti sfilano. Carresi riesame, le spinge il ricorso e conferma il sequestro. Ieri la ufficializzazione del dispositivo in attesa adesso di leggere le motivazioni del provvedimento e poi c'è lo sconto. Drem, alta tensione nel PD, Fanelli contro Leva, sputa veleno a caso sperando che rinasca qualche opportunità. E poi la finestra sullo sport, le anticipazioni, Serie D, oggi c'è il derby a Cannarsa, Termoli Campobasso ovviamente, Agnone batte del Chieti e sperare. Pallavolo per l'Europa, 92 si spalancano le porte della Serie B1. Calcio a 5, Michi, Mike agli spareggi, Pozzilli retrocede, la nebbia in C1 e per il ciclismo, crono squadre anonima per l'Isernino a Pollonio. Parliamo qui ovviamente del Giro d'Italia che è iniziato ieri. Vasto crollo a Palazzo d'Avalos, la gara d'appalto è da rifare. Vediamo anche il quotidiano del Molise, anche qui sotto la testata, il ricordo di mister Cosco. Molise in lutto per il suo mister, ci ha lasciato Vincenzo Cosco, stroncato da un male terribile a soli 51 anni domani, i funerali a Santa Croce di Magliano, il suo paese. E poi a tutta pagina l'esame cancella le carresi, i giudici respingono il ricorso confermando il sequestro di Buie e Carri, salta così anche la manifestazione di Porto Cannone. I sindaci dicono non ci arrendiamo, la battaglia continua. Da Eserni, assicuratore, raggirato, 13 campani nei guai. Per pagare meno aveva intestato i veicoli ad un'associazione denunciati dalla Polstrada. Camusso e Molise pronti al confronto, ma anche al conflitto se necessario. Il segretario chiude la due giorni di convention della CGL. Poi da Termoli, ne abbiamo parlato, armato di pistole e munizioni da guerra, arrestato, lavori sul viadotto di Chiauci, Trignina, col senso unico alternato per dieci mesi. E poi anche qui i titoli di sport. Serie D, Termoli Lupi, oggi la sfida. Minadeo, il capitano del Rosso Blu dice, uniti nell'abbraccio a Cosco. Serie D, ancora l'Agnone, si gioca le ultime chance di permanenza, ovviamente nella categoria. Palla a volo, l'Europea 92, Corsara Napoli, serie B1 conquistata. Uno sguardo anche alla Gazzetta del Molise, che oggi a tutta pagina dedica una foto con un semplice ciao mister a Vincenzo Cosco. L'Oscar del giorno a Susanna Camusso della CGL, il tapiro del giorno, a Paolo Di Laura Frattura. Uno sguardo anche all'home page di Futuro Molise, il quotidiano online. Anche qui si parla dell'Assemblea regionale della CGL, intervista esclusiva alla segretaria nazionale Susanna Camusso, il Molise del lavoro, del welfare della scuola, proposte ed azioni. Sarà poi pubblicato domani sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale per il riparto di 478 milioni di euro per la cassa indereo che è la mobilità riferita al 2014. E poi calamità atmosferiche quantificate i danni. Frattura dice, presentiamo al governo richiesta per 206 milioni di euro. La festa dell'Europa, il messaggio di Patriciello, rafforzare il processo di integrazione. Qui si parla invece delle amministrative della campagna elettorale. Montenero di Bisaccio, oggi comizio pubblico del candidato sindaco Nicola Palombo. Il messaggio dell'Arcivescovo Monsignor Giancarlo Bregantini per la festa della mamma. E poi, ricordo, Vincenzo Cosco non ce l'ha fatta, lo sport perde un protagonista. Azioni di interna annunzializzazione delle pubbliche e medie imprese molisane. Assessore Scarabeo dice, la Regione cofinanzia i progetti di ASEC Confesercenti. Coglie al Volturno, mercoledì 13 maggio, inaugurazione della sede sociale dell'Associazione Regina della Pace. E poi a scorrere vedete le altre notizie su Futuro Molise Online. Passiamo adesso le prime pagine dei quotidiani molisani, diverse le aperture, i principali quotidiani aprono con il monito del presidente Mattarella per quanto riguarda la questione Europa e migranti. Mattarella dice, basta egoismi sui migranti, l'Italia chiede all'Unione Europea un impegno comune. Poi tasse locali sempre più alte, il peso in busta paga degli addizionali, le regioni con i maggiori rincari sono Piemonte e Lazio, incassi su fino al 6,9% dal 2013 al 2014, rischio di nuovi aumenti nei comuni. Erano i principali titoli del Corriere della Sera, vediamo anche Repubblica, anche qui l'apertura scelta è sul tema migranti, sconto nell'Unione Europea. Mattarella dice, basta egoismi, Alfano, piano per la Libia, sì l'obbligatorio, Mogherini e Schulz si schierano con Juncker, i paesi dell'est in trincea, ma il diritto di veto sarà congelato. E poi la mega parata di Putin, la parata dell'orgoglio per sfidare il nemico Obama, ieri a Mosca. Sul reddito di cittadinanza, poi leggiamo prove d'intesa, Movimento 5 Stelle, Ribelli PD. Andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa, che sceglie oggi questa apertura, Libia, più vicino il sì alla missione ONU, domani Mogherini a New York, Bruxelles, quote di migranti obbligatorie per tutti i paesi, primono da inglesi e polacchi. Molto difficile che si raggiunga un accordo su questo tema, intanto nel catenaccio leggiamo, forse all'Italia il comando, Mattarella all'Europa dice, basta egoismi sugli immigrati. Centropagina, i cinesi in gita premio invadono Nezza, il patron della Tienz porta 6.000 dipendenti in vacanza per festeggiare i 20 anni della società. Davvero molto bella e particolare la foto che pubblica sulla prima pagina la stampa. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano. Questa l'apertura, il compagno camerata De Leo, dal fronte nazionale a De Luca, parliamo di elezioni regionali in Campania. In questo caso l'elenco degli impresentabili candidati con i demmi in Campania non finisce mai. Dopo gli uomini legati a Gomorra e a Cosentino, ora salta fuori un esponente dell'estrema destra, riciclato dal sindaco condannato di Salerno, dopo un fugace passaggio per il Movimento 5 Stelle. E a proposito di 5 Stelle, c'è qui in marcia la fiumana dei 5 Stelle ad Assisi, reddito prove di dialogo con il PD, i ribelli democratici pronti a trattare sulle misure anti-povertà. Ma si parla anche di rifugiati in fuga, la tratta degli eritrei confinati nelle favelas di Roma. Era dunque il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il giornale, la prima pagina. Berlusconi, come sarà il nuovo partito? Ieri a Genova, Pele Regionali, in appoggio al candidato del centro-destra, l'intervento di Berlusconi, il sogno repubblicano. Il Cavaliere dice, modelati uniti in un unico soggetto, questa è la proposta, vuole una struttura snella e dialogo con i politici locali. La sinistra PD celebra la scissione da Renzi, si fa un'altra festa dell'unità. Centropagina, la Russia è da sola, il mondo di più, l'Occidente diserta la parata di Putin, ma è un errore a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi leggiamo in basso, dopo i conti, tocca alla giustizia, Bruxelles contro toghe e governo, nel mirino i tempi dei processi e non solo. Libero, titolo categorico, facciamo causa a Renzi, fuori soldi delle pensioni, il Premier invia dopo le elezioni la decisione sugli scatti bloccati illegittimamente, ma solo allora annuncerà che non ha alcuna intenzione di rimborsarli. Forza Italia e Fratelli d'Italia pronti a mettere a disposizione avvocati per ricorsi. Libero, costringe Farinetti a riscrivere la storia della famiglia, il padre condannato e le fiduciarie usate dalla mafia. Non si parla più di clandestini, ma l'asilo per tutti è follia, la trappola, profughi, il piano dell'Unione Europea. È l'articolo a firma di Francesco Borgonovo. Passiamo a vedere adesso il mattino di Napoli. Liste sporche, leggi inefficaci, il virgolettato si riferisce alle dichiarazioni di Cantone, fuori chi è condannato in primo grado, anche le regioni vanno sciolte per mafia. Il presidente dell'anticorruzione interviene sul caso dei candidati impresentabili. Cure tumori, grillo shock, un'altra uscita che sta facendo molto discutere. Veronesi ci guadagna, violento attacco, fa fare troppe mammografie. La piazza rossa vale di più di un mazzo di fiori, il caso USA ed Europa assenti alle parate della seconda guerra mondiale in Russia. Vediamo anche il tempo di Roma, che sceglie una notizia di taglio locale riguarda la capitale, riguarda in particolare questo uomo di cui è pubblicato l'identikit, lo stupratore, violenza alla tassista romana, c'è l'identikit, caccia l'uomo magro, 25 anni, ha una borsa per fingersi turista. E adesso è stato diffuso proprio, al fine di facilitarne il ritrovamento. La festa del pilastro dell'italianità. Oggi fate gli auguri alla mamma e il fondo di Pietro De Leo. Era la prima pagina del tempo, allora andiamo a vedere anche la Gazzetta Sportiva, che dedica il titolo principale alla vittoria del Milan sulla Roma, nell'anticipo di Serie A di Risera. Milan doppia svolta, Inzaghi strappa applausi, Silvio pala di cessione, Van Cinkel destro e Roma KO 2 a 1. Prova d'orgoglio dei rossoneri, ma tiene Banco Berlusconi pronto a vendere. Anche la maggioranza se serve a tornare competitivi. Ovviamente non poteva mancare il titolo sul Giro d'Italia, che è iniziato ieri, di ciclismo e subito giro. Una grande partenza a Sanremo. L'australiano Gerrans in rosa dopo la cronosquadra, però tutti aspettano il duello con Tator a Roo. Lo spagnolo strappa 6 secondi a Fabio, che va più forte del previsto. Oggi arrivo a Genova. Festa a Juve. Intanto Pogba è tornato. Un gol con vista sul Bernabeu. Ajai, Ronaldo sbaglia un rigore. Real non va oltre il 2-2 col Valencia e vede allontanarsi il titolo. Barsa ha più 4. Poi Anderson Hernanes sfida fantasia. Qui siamo alle anticipazioni. Bianco Celesti per il secondo posto. Nerazzurri per l'Europa League. Ruben Sosa, doppio ex a Vissala Lazio. L'Inter è carica. E ammiro Shaqiri. Era dunque la gazzetta sportiva. Ed è tutto anche per la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Telepolise e il telegiornale in diretta alle ore 14. Grazie a voi tutti e buona domenica. Grazie a voi.